Il pareggio di bilancio è un obiettivo fondamentale per l'Italia. Noi siamo un paese che ha prodotto troppo debito pubblico, che continua a tradurre e a fare troppo deficit pubblico e non puoi andare avanti continuando a indebitarci. Il pareggio di bilancio è un punto di arrivo. Se non facciamo una manovra come quella che abbiamo fatto oggi, andiamo a battere. Non puoi continuare con troppo debito e con troppo deficit. Il debito viene dal passato, ma se non facciamo la manovra non abbiamo futuro. Grazie a tutti.